Ok Attenzione ai fili elettrici Sto andando alla macchina Atti, atterra solo se sei sicuro Sono sicuro Eh, sennò risali, no? Grazie No Voglio provarlo così? Attica, c'è una azienda da mudiamo, per un mudo. Vande! Vediamo Attilio che va a piedi a recuperare il modello, vai di corsa! Davvero, buongiorno, voglio fiorire il scemo!